Il concetto però è Emma, parla lei, lei che gioca pallavolo, lei che ha più soldi, lei che adesso vive una dimensione diversa rispetto a quella che rappresenta quando dice, racconta quello che è successo in passato quando dice l'Italia è un paese razzista, questa cosa ti frena un po'? No, non mi pesa, devo solo capire il modo per far sì che la gente comprenda esattamente cosa sto cercando di comunicare ed è la cosa più difficile. Il motivo per cui mi batto tanto è perché vorrei tantissimo che i ragazzi, ragazze, bimbe, bimbe crescessero semplicemente con l'amore e non dolore.